A che cosa pensi? Non penso a niente, mi annoio. Si vede che quando ti annoi pensi. Secondo me per essere felici bisogna eliminare i pensieri. Dicendo questo però tu formuli un pensiero. Sì, lo so. Ecco perché mi piace stare in silenzio. Non risolve mica il problema. I pensieri si formano nella mente, soprattutto quando stai zitta. Mi riferivo ai pensieri inutili. Ah, già. Anche quelli, come fai a cacciarli via? Vi scesso di dare fuori. Io non stavo mai avuto. Pensare non mi va, ma io vi spacco la faccia a voi e le vostre yarballe. Bravo! Questa totale assenza di stimoli è veramente sconfortante. importante. Lei non pensa... Io evito di pensare, ma lei è giovane. Pensi quanto vuole. Sto diventando pazzo? Oppure ti ho sentito dire che tu pensi qualcosa? Io non ti ho reclutato per pensare, ipopotamica massa muscolare. Non pensare. Non ne hai l'equipaggiamento. Sai a cosa pensi? Non pensare. Dormi. Dovevo saperlo. Le donne non pensano. Ehi, dico. Ma cara, non pensano mai le donne. Pensare è prerogativa dell'uomo. Ah, sì? Già, siccome la donna è più naturale, non pensa ma sente. Un uomo può spendere ore a pensare per giungere allo stesso risultato cui perviene una donna per istinto in un attimo. Sì, sì, lo so. Ma stavo solo pensando che... Ma la riverenza mentre pensi risparmirai tempo. Dovevo fare stentare un sacco. Sì, ti ho scelto. Ti prego, non minimizzare sempre la mia parte. Posso avere anche i miei pensieri. E in questo momento quali sono? In questo momento non ne ho. Ma ne sto aspettando uno. Lo sento venire. È qui. Tu pensi a ieri sera? Ma sì. Ieri sera ero furiosa. Ma adesso non so più, sono indifferente. No, non penso a niente. Vorrei pensare a qualche cosa e non riesco a farlo. È venuto? Sì. Bello? Dimmelo. No. Perché no? Più tardi scoprì che se tenevo segreto quello che pensavo, se mi mostravo sequiosa, se avevo l'aria assennata, un tale comportamento comunque mi conveniva. Mi dispiace che la pensi così. No, non è vero. Forse hai ragione. Abituati. Il mondo vorrà sapere quello che pensi. Fanculo, è quello che pensi. Bene. Il mondo vorrà saperlo. Il mondo vorrà sapere quello che pensi. Il mondo vorrà sapere per... Grazie per la visione!